La cardiopolitana è il secondo step del progetto Pesaro Cardioprotetta, un progetto che le strade di Luca ha avviato con la Croce Rosso e il comune di Pesaro qualche anno fa. Fino a questo momento il nostro lavoro si era concentrato più sulla strumentalizzazione, quindi su donare dei fibrillatori che sono stati messi in vari posti della città, ad accesso pubblico. Adesso è un po' di tempo che ci pensevamo di eseguire il secondo step, quindi oltre a puntare alla strumentazione andare anche sulla formazione delle persone, perché uno strumento che nessuno sa utilizzare può essere anche inutile, invece avere una diffusione delle tecniche di BLSD è un fattore determinante per l'effettivo funzionamento di tutto il sistema. Sono corsi di BLSD autenticati dalla Croce Rossa, tenuti da loro, dai professionisti della formazione, sono assolutamente gratuiti per chiunque si voglia iscrivere. Noi abbiamo pensato Cardiopolitana di pensare a un percorso, corsi itineranti e ne vorremmo fare due in ogni quartiere della città, quindi in teoria dovremmo formare sulle 220 persone, 11 quartieri, due corsi per ogni quartiere, quindi sono 220 persone residenti a Pesaro che possono sfruttare questa opportunità. Per aderire a questa iniziativa abbiamo predisposto un sito che si chiama www.cardiopolitanapesaro.it e lì si troveranno tutte le informazioni, si troverà i moduli per registrarsi, nell'estate dovrebbe anche uscire un'applicazione che renderà ancora tutto più facile perché tramite l'applicazione ognuno si potrà registrare. Adesso noi abbiamo già trovato delle date, alcune dovranno essere aggiunte, il problema è che visto l'andazzo un minimo di flessibilità ci vorrà, quindi potrebbero cambiare le date, ancora non sappiamo di preciso i luoghi, però sul sito e sui canali social delle strade di Luca cercheremo di dare sempre tempestivamente le informazioni. I defibrillatori che abbiamo piazzato noi sono 11, poi ci sono altre associazioni che ci sono venute dietro come Avis che fa parte comunque anche del progetto cardiopolitano e alla fine quelli pubblici disponibili al pubblico sono in tutta Pesaro una quindicina, quindi iniziano ad essere già un bel numero, naturalmente non ci fermeremo però puntiamo molto su questo step.